buongiorno ragazzi oggi svuota la spesa s lunga allora faccio subito con i surgelati un pacco di fisillini primizia questi piccolini e un pacco di finaci questi con già la mozzarella quando siete di corsa pranzo cena veloce con due uova e seta posto poi ho fatto due spese contemporaneamente quindi credo di aver preso alcune cose del tuo fisico naso alessia lunga di solito prendo più cose di marca oltre che le offerte oppure le cose che proprio ci servono tipo che in realtà adesso che viene un po più freddo non stiamo più bevendo prima cosa che d'estate a cena fa piacere queste due messina che è anche bella cresca devo dire me la bevo subito ma non esageriamo neanche mezzogiorno poi ho preso una bottiglia di ceres che mio figlio ha detto io non ho mai bevuto la ceres fa 19 anni non è una bambina prima che qualcuno dica non è una bambina fa 19 anni le due leffe ombre e questi di solito io li tengo ma ne ho già tantissimi e quindi poi erano idea forse cambiamo casa ma prima dei prossimi due anni e mezzo non credo quindi direi che li butto farò il tempo ad accumulare ho quattro pacchi di carta igienica maxi rotoli smart questa è tipo rotoloni regina questa dell'esse lunga sempre due veli sono 600 strappi per 2 euro di 90 mi pare ed è in assoluto quella che costa meno perché anche la carta igienica sta diventando un lusso tra lasciamo i detersivi e anche quelli non si riesce più a comprarli proverò a farli in passato avevo già provato ma rimanevano troppo grossi la cosa che non mi piace della stesa dell'asse lunga è che fanno questi sacconi giganti allora ho preso l'insalata riccia la mia piccina vuole la torta di scarola quindi devono essere due confezioni da mazzochillo di una più o meno due rosse per fare un po' di insalata poi ho preso questo bianco castrato di bovino per fare il brodo perché adesso appena darà di poco freddo farò il brodo poi ho preso questa confezione di mirtilli che in realtà mi sembrava più grossa ma va bene poi ho preso i peperoni perché si vede che mi ero dimenticata i peperoncini questi verdi dolci non sono bellissimi credo che saranno gli ultimi per questo stagione poi ho preso ancora melanzana quando si fa la spesa doppia lo stesso giorno io non so che cosa ho combinato finocchi finocchi e altri due pacchi di bluster non ho controllato bene le due spese cosa c'era cosa non c'era credo di aver sistemato bene ma è andata male poi ho preso una di queste merende che mi ispirava parma cotto con un tè alla pesca un panino al prosciutto cotto e mini cosa di cioccolato sempre perché adesso cominciano magari anche a pranzare a scuola merenda a scuola io ho preso questo vuoi dirte ma che piccolo ecco lei mangia questo ed è pure troppo non riesce proprio a mangiare a colazione per lei un dramma sempre stato un dramma la colazione per lei poi c'è qua ho preso dell'uva tutella poi ho preso dell'altra scarola poi ho preso ma che grosso del cavolo nero perché purtroppo quest'anno mia mamma non è riuscita a trovare le piante quindi non ne abbiamo neanche una per cui a me piace moltissimo la minestra con la zucca e il cavolo nero mi sono presa già un cavolo nero così me lo pulisco me lo congelo e quando voglio fare la minestra ce l'ho già pronto a me piace farci anche la pasta con rosolata in padella con un aglio un po' di peperoncino qualche cappero poi ci buttiamo questo olio parmigiano se vi piace anche un'acciughina sciolta se volete farla più vegetariana senza acciughina è buona lo stesso le chips di cavolo nero invece non mi sono piaciute faccio una prima di grande sacco che io dubito che riuscirò a sollevare banane ancora banane questa tra l'altro è veramente brutta l'ho però brutta, almeno le altre sono un po' più verte questa è brutta ancora latte questo della granarolo in offerta perché in realtà mi devo fare prima una stesa da essere lunga poi a distanza di qualche giorno da Lidl ma ho due settimane di fuoco quindi io prendo tutto questo arggello di dito faccio e preparo ok poi ho preso questa polpa finissima della cirio anche questo è uno spicchio d'aglio rosolato in padella ci buttate questo se ce l'avete del basilico oppure no fate cuocere poi ci buttate gli spaghetti buono veloce dietetico se siete a dieta basta ad usare la quantità di pasta poi ho preso un sugo veloce questo alessi lungo il basilico è molto molto buono se siete ancora più di corsa che non avete tempo neanche di fare quello siamo onesti e sinceri capita Tomica della Schweetz ho preso la limonsola questa è una delle bottigliette più piccole rispetto a quella che prendo sempre perché ultimamente sarà anche che c'è un po' più fresco mi fa piacere ma non troppo quindi ho preso questa più piccola ma ho preso anche quella più grande perché se qualche volta se ne vuole qualcosa in più cioè considerate che queste cose io le compro una volta al mese quindi poi ho preso sempre merende a scuola oro cioc vaiocchi questi sono tutti monoporzione proprio per essere portati a scuola e no non li mettiamo nel contenitore per risparmiare no poi ho preso un pacco di nascondini e un pacco di atenei siamo molto a corto di biscotti ma le offerte non ci sono c'erano anche queste e queste anche a prezzo pieno hanno impresso contenuto io spero di trovare a più presto dei biscotti in offerta anche se l'offerta ad esempio al libro questa settimana del 25 settembre ci sono i panghistelle ma sono sempre comunque più di 4 euro una volta riuscivamo a prenderle sui 3 euro al massimo adesso in offerta intendo adesso ho preso queste paste riutilizzate che avevamo preso una volta al Lidl le ho prese due parti e che la mia piccina amava ma che il Lidl non tiene più e ho visto all'este lungo ho detto vabbè troviamo per quelle sere sempre che siamo di corsa perché non so come siete voi ma qui viviamo molto di corsa sono periodi sempre pienissimi e quindi a volte ci viene bene questi proprio questi non le prendo sorgelate perché costano tanto però ogni tanto compriamo anche questi bene ragazzi questa era tutta la spesa mega gigante questa era anche quella dell'este lunga ora il divertente sarà dove metto tutte queste cose perché il frigo sta scopriando ed è bello grande un po' di cose vanno sorgelate vanno fatte però ora è mezzogiorno io avrei fame quindi vorrei sistemare queste cose che sono sul tavolo e poi vedo come come organizzare tanto per esempio la scarola una volta lavata va cotta quindi potrei già lasciarla cotta metterla in frigo e fare la torta domani e tutto il più che non ci si riesce a fare la torta domani si mette in un contenitore e si sorgela per un'altra volta pronta quindi ora vado a mettere via sarà divertente capire dove posso mettere tutto questo latte ma ormai l'ho presa mi durerà non dico tutto il mese ma quasi perché 12 litri di latte mi durano circa 20 giorni più o meno meno che più e quindi io direi che siamo a busto fino più o meno a metà ottobre con praticamente tutto dovremmo comprare giusto solo un po' di cose da da frigo formaggio frutta verdura queste cose ma qua manca il formaggio cerchiamo di mangiare un po' meno grazie per aver visto questo video e buona giornata ora ora vediamo un po' meno